L'omicidio di Alessandro Neri, sei gli arresti e le perquisizioni in tutta la regione da parte di oltre 100 carabinieri nel contesto delle indagini scaturite dal delitto del giovane 29 anni ucciso con un colpo di arma da fuoco a Pescara. Dalle prime ore dell'albuna vasta operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Pescara per l'esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelari in carcere e numerose perquisizioni domiciliari nelle province di Pescara, Chieti e Teramo. I provvedimenti disposti dal GIP del Tribunale di Pescara Antonella di Carlo su richiesta del PM Luca Sciarretta nel contesto delle indagini scaturite dall'assassinio di Alessandro Neri, il 29enne, ucciso e ritrovato senza vita lo scorso 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. Le accuse contestate per i sei arrestati, è bene precisarlo, sono dispaccio di stupefacenti, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi e danneggiamento con incendio. Alessandro Neri era una personalità poliedrica sotto le righe, proprio per questo, hanno detto gli investigatori, è stato difficile focalizzarne la natura e l'indone. Un giro pericoloso di droga, armi ed estorsioni, in particolare a San Donato, in cui Alessandro si sarebbe ritrovato e proprio in quell'ambito sono convinti i carabinieri e maturato il delitto. Le persone arrestate hanno già precedenti penali, fratelli Insolia, Junior e Giorda, 31 e 23 anni, Marco Lapenta, 35, Giulia Spinelli, 29, Cristian De Santis, 28, Flaviano Spinelli, 33 anni. Giro di boa delle indagini che indicano, dice il colonnello Riscaldati. Cioè il mondo dello spaccio degli stupefacenti, anche della violenza e della intimidazione, a cui non dico in forma integrale, ma comunque la vittima era contiguo, era in qualche modo e a suo modo coinvolto. Alessandro avrebbe? Ha effettivamente comprato insieme ad un altro arrestato che è appunto Insolia Junior, una pistola. Alessandro Neri aveva una visione anche ambiziosa che puntava a fonti di reddito anche attraverso attività, alcune certamente lecite, altre un po' al limite della liceità e la contiguità, ahimè, con le persone che oggi sono state arrestate, in qualche modo fa ritenere che ci fossero anche delle compartecipazioni di carattere economico soprattutto. 12 inoltre le persone indagate. Comandante, so che questa domanda è impossibile al momento rispondere. Tra queste persone potrebbe esserci l'assassino di Alessandro Neri? Questo non è al momento, come ha detto lei, possibile sostenerlo, però noi pensiamo di avere in qualche modo messo a fuoco una parte importante dell'indagine e quindi in questa direzione continueremo a scavare. La mamma parlava di Alessandro come un ragazzo buono, un ragazzo tranquillo. La mamma è sempre la mamma, per cui sicuramente ha e immagino continuerà ad avere una visione del proprio figlio anche in questa direzione. Dopo nove mesi siamo ancora qua e l'indagine non è assolutamente in fase calante, ma è in fase crescente.